Du, duemila, du, du, duemila, du, duemila, du, duemila, du, duemila, du, ma che ne sanno i duemila Vito? Cosa ne sanno, cosa ne sanno i milanisti? Cosa ne sanno? Speciale duemila iscritti dello Zoccolo Duro, in compagnia di Vito Lo Storico. Vicepresidente dello Zoccolo Duro. Vicepresidente. Vito, siamo arrivati a duemila. Grande. Ringraziamo. Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno voluto bene, che ci hanno votato. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Una cavalcata lunga, difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Ti piace cavalcare? Mi amore il tuo. Adesso puntiamo i 5.000. Voglio anche ringraziare tutti i componenti dello Zoccolo Duro. Perché adesso sul canale lo faccio solo io, ma su Facebook ci sono anche tutti gli altri. Valeria, Claudietto, Jacopo, Cristiano il tecnico, Marco Polo, Stefano. Tutti quelli che hanno partecipato anche in passato, Mario Portello, tutti quelli che sono passati dallo Zoccolo. Non li nomino tutti, li conoscete già. Ringraziamo tutti. Tutti gli amici li vogliamo molto bene. Ci salutiamo Madame Valeria che è una grande amica laziale. E adesso facciamo partire una carrellata di youtuber, youtubers o youtubers, che frequentiamo, sentiamo, che sono felici. Anche loro ci fanno gli auguri. Quindi li mettiamo nello speciale 2.000 iscritti. Tutti, tutti. Davito Lo Storico e Luca Magno, the president, the president, the president, number one, special one. Fammi la risata. Non c'entra niente. Va bene, ringraziamo tutti ragazzi, 2.000, facciamo paura, ci vediamo a 5.000 adesso. Ci vediamo a 5.000. E champagne, Don Perignon 64. Facciamo lo speciale 5.000 con lo spumante. Con lo spumante, no champagne. Champagne, per prendere un incontro. Va bene, lasciamo agli altri youtubers, grazie a tutti, grazie. Grazie, un bacio a tutte le amiche, anche alla nostra amica del Belgio, come si chiama. Grazie a tutti, punto, finito. Ciao, 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 ciao Madame Lilli. Federico a calcio di cane podcast. E va bene, no guarda. Guarda, ti metto una cosa qua, col simbolo dello zoccolo duro, con un 2.000 magari, un più 2.000 qui così, e fai vedere, veramente. Vasseggiamo. Cioè, tu hai capito? Lo zoccolo duro, Luca, ha fatto 2.000 iscritti. Cioè, quella è milanista. Capisce una sega di calcio, la regaletta ha fatto 2.000 iscritti. E vabbè, mo faccio un po' di un teatrino, qualcosina, mi invento, dai. Dai, vai, vai, registriamo. Colgo l'occasione per fare i miei più sentiti complimenti a Luca dello zoccolo duro per il traguardo dei 2.000 iscritti. Complimenti Luca, te lo meriti. Grande conoscitore di calcio, sempre divertente, sempre sul pezzo. Gianni, l'interista. Luca Magno. E chi è costui? Luca Magno oggi mi ha chiesto di fargli un video di congratulazioni per i 2.000 iscritti. Ma chi è Luca Magno? Congratulazioni di cuore, zoccolo duro. Sei riuscito ad arrivare e a tenerteli, stretti stretti. Le mie congratulazioni più vive al gruppo formato da tre youtuber che ce la mettono tutta. Mi fa piacere che siate riusciti ad arrivare dove siete arrivati. e che vi devo dire al prossimo appuntamento ai 5.000 iscritti. Sempre che non ci arrivi prima io. Un saluto a tutti quanti e iscrivetevi a Gianni l'interista. Tony Tedo, la parte sbagliata di Milano. Cari ragazzi dello zoccolo duro, perché faccio questo video? Perché volevo farvi complimenti più vivissimi veramente per lo speciale 2.000 iscritti ragazzi. 2.000 iscritti lo so che non è facile. Vi faccio i complimenti appunto perché so che è stato durissimo raggiungere questo traguardo. Mi raccomando non fermatevi, andate avanti perché state offrendo veramente un buon servizio. Poi gratuito. Cosa volere di più? Spero che le nostre collaborazioni continuino a oltranza perché mi diverto veramente quando collaboro con voi. perciò vi rifaccio nuovamente i miei complimenti più sentiti e sapete che vi lovo, vi voglio bene. L'unica pecca di questo canale è lo zoccolo duro. Ahimè, è Luca purtroppo, è milanista, non ci si può fare niente. È un difetto di fabbrica. Ciao Luca, lo sai che ti voglio bene, lo sai benissimo. Comunque saluto tutti i ragazzi dello zoccolo duro. Non faccio nomi per non rischiare di dimenticare qualcuno però vi faccio veramente i complimenti più sentiti e vi mando un grosso in bocca al lupo. Continuate così, mi raccomando. Non smettete mai, andate avanti, crescete sempre di più perché, ripeto, state offrendo veramente un bel servizio. Riuscite a dare il sorriso alle persone la mattina soprattutto Luca riesce a dare un bel sorriso sulle labbra delle persone la mattina soprattutto con i tuoi video e le tue intro soprattutto. Ma voglio fare i complimenti comunque a tutti i ragazzi dello zoccolo duro. Mi raccomando ragazzi, tenete duro, continuate così e niente, ci vediamo prossimamente e vi mando un bacione. Ciao ragazzi, continuate così. Terobbio Sport TV Weee, amico mio, zoccolo duro, zoccolo duro, zoccolo duro ti faccio i miei auguri e ti faccio i miei complimenti per i 2000 iscritti, mamma mia, sei un grande, sei un grande sei l'unico milanista, anzi no, l'unico no tra i pochi milanisti che io stimo e che voglio veramente bene e mi diverto moltissimo soprattutto a farti video sfottoia ah 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 ah, anzi no, faccio il canalizzatore, ah ah ah, il canalizzatore che fai tu ah ah ah, comunque ti faccio i complimenti, sei un grandissimo youtuber, intrattenitore, intrattenitore, competente e l'unico difetto che hai è che ti fii la maglia che non dovresti di fare, però per il resto sei un bravo youtuber, quindi diciamo che ti accetto per quello che sei ah 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 ah, comunque ti faccio un forte in bocca al lupo e ti dico una cosa anche io sono vicino ai 2000 quindi ti sto raggiungendo ah ah ah, comunque scherzo, ti faccio i miei auguri e ovviamente voglio che questo traguardo che hai raggiunto sia un incentivo per fare sempre meglio, per migliorarti sempre di più, per dare sempre ai tuoi follower un motivo, diciamo per seguirti, sempre, questo sempre non, sii sempre te stesso e non cambiare mai perché a noi ci piaci così e tranquillo che otterrai grandissimi risultati, questa è una delle tante soddisfazioni che otterrai soprattutto quella del Milan che per me quest'anno andrà in Champions, si ah 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 Mbare Palermo Enjoy! Buonasera a tutti dal TG Mbare Volevo fare un augurio a mio amico Luca Magno che c'è un canale lo zoccolo duro lo zoccolo duro lo zoccolo duro capito? grande milanista quindi volevo fare un augurio dei suoi 2000 iscritti grande Luca top player forza Juve e a basso Milan ciao Kartal Curva Nord Buonasera a tutti ragazzi del vostro Kartal Curva Nord eccoci qua Kartal Curva Nord ragazzi questo video è un video inedito è per fare l'imbocca al lupo a un grande amico collega youtubers che io e lui non ci siamo tanto punzecchiati in questo periodo però la sua fede calcistica ahimè ahimè è milanista ma comunque ragazzi questo mitico canale lo zoccolo duro ragazzi un grandissimi gruppi di youtubers che seguo con molto piacere soprattutto con Luca tacci i vostri siete arrivate a 2000 oh però ora tocca arrivare a sto punto a 2018 stiamo nel 2018 arriviamo a 2018 dai un grande abbraccio dal vostro Kartal Curva Nord e continuate a iscrivervi al canale di Luca lo zoccolo duro e tutti i ragazzi che ne fanno parte perché sono veramente magnifici quindi cari ragazzi io vi saluto e un grande abbraccio allo zoccolo duro dai spaccate de brutto va Alex Rossi auguri tantissimi auguri Luca per i tuoi 2000 iscritti complimenti hai raggiunto 2000 iscritti complimenti sei anche tu nella cerchia dei 2000 iscritti complimenti veramente anche se comunque calcisticamente ti fiamo squadre diverse tu Milan e Roma però ti faccio un bello in bocca al lupo per questi 2000 iscritti e spero che da adesso in poi la scalata verso i 3000 sia sempre più rapida ciao e ancora tanti auguri ciao Valerio aspettando il tattico la coppia dei campioni Daniel e Jack vamos 2.000 iscritti followers grandi ragazzi grandi continuate a seguirci zoccolo duro sono Daniel Florida anche di coppia dei campioni come definirvi con una parola pazzeschi come dico sempre pazzeschi grandi ragazzi grandissime novità sullo zoccolo duro continuate a seguirci like su like commenti mi raccomando condividete ragazzi attenti grandi novità pay attention pay attention